Ben Kingsley e Jacqueline Bisset, insieme sul grande schermo in un film tratto da una storia vera, per la regia di Pear Fly. Esce il trailer di Giochi di Potere, nelle sale dall'11 luglio prossimo, ispirato all'autobiografia di Michael Sosan. Un giovane talentuoso e pieno di ideali, ottiene finalmente il lavoro dei suoi sogni alle Nazioni Unite. Ho accettato l'incarico per cambiare le cose. Ma a volte i sogni nascondono una cruda e sconfortante realtà. Tacere o raccontare quello che non avrebbe mai voluto scoprire? La pellicola racconta l'inquietante, dietro le quinte, del programma Oil for Food, letteralmente petrolio in cambio di cibo, attivato dalle Nazioni Unite dal 1995 al 2003. Uno scandalo che coinvolse moltissimi paesi, Italia compresa, proprio per le tangenti pagate al governo iracheno di Saddam Hussein in cambio di milioni di barili di greggio. Mi faccio la cosa giusta. Le auguriamo una buona serata allora. Non dimentichi la busta. Hanno una lista contenente i nomi delle persone che ricevono soldi da Saddam. Stiamo parlando di persone ai piani alti che prendono milioni di dollari in tangenti. Se ci fosse una spia? Sospetti forse di me? Nulla accade senza che lui lo sappia. C'è qualcosa che vuole dirmi? Se ne va! Non puoi combattere la tempesta. Non male, ragazzo. Bella mossa.